Ragazzi, allora, guardate un po' dove siamo oggi Allora, questo KTM Qualcuno di voi l'avrà già visto molto tempo fa Perché avevo già fatto un video Quello che, vedete, è tipo stato il primo 125 che ho provato E da allora, comunque, diciamo, di 125 non ho provati E questo è cambiato nettamente Poiché, vabbè, oltre ad avergli fatto dei lavori comunque al motore Così, ha cambiato anche i rapporti E adesso non mi ricordo bene Comunque, se non sbaglio, monta dei 14.50 E direte, 14.50 è un po' tardi, ma il cazzo Appunto, sono tortissimi Quindi sta merda si spenderà di brutto Adesso voglio provarlo Adesso non so bene, però, quando aveva i rapporti lunghi Quelli erano veramente lunghi Il suo K allungava di brutto Non mi ricordo se l'aveva fatto di più 130-140 Che comunque è una pulissima velocità Poi questo è tarato anche molto tardi Quindi è stra duro Devo capirlo un po', cazzo, perché è durissimo, è quello? Alla prossima Alla prossima Alla prossima Sì, ragazzi, qua sto cazzo si guida bene sta roba Devo prendersi un po' la mano, però è tarata E' infiodata, cazzo, non va giù Infatti nei campi di iniezione si vede che non si imbarca per chi Adesso la faccio vedere anche un attimino Vabbè, a livello di modifiche c'ha Vabbè, il kit motard Disco da 320 mi sembra C'ha i tamponi, però la modifica più carina Questo qua, che non so se vedete, comunque FMF shorty Quindi suona radia Non so quante ore ha Adesso la moto l'avete vista un pochettino Torniamo in sella e proviamola ancora un attimino Perché già ci devo prendere la mano all'inizio Facciamo un attimino Un pur sound Ragazzi, questa parte del video è extra Perché siamo sull'app del Christian Come ben potete vedere Là davanti c'è il Christian che impenna Adesso qua ci sono i suoi giù E la badana Comunque, ragazzi, mi raccomando Perché io mi dimentico sempre di dirvelo Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Ma soprattutto Iscrivetevi, cioè Vabbè, seguitemi Sul mio profilo Instagram Perché sono arrivato ieri sera a mille follower Quindi vi ringrazio di brutto C'è, sono strafamoso, ragazzi Niente da dire Comunque, niente Seguitemi anche su Instagram E detto ciò Io vi lascio al video adesso Quindi sto zitto un attimo E sentirete il suono di questa bestiolina E sentirete il suono di questa bestiolina Grazie a tutti. 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 Woohoo.